Ancora un saluto dalla redazione. Le notizie di oggi, mercoledì 20 luglio. Non accenna a diminuire l'ondata estiva che sta colpendo con numeri imponenti il contagio da Covid. Il virus continua a seminare morte. Ieri ci sono stati due decessi, uno a Sciacca e uno a Grotte. A Sciacca dall'inizio della pandemia i morti. Sono stati 51. Il report dell'Asp di Agrigento, diffuso oggi, riferito alla giornata di ieri, registra anche due nuovi ricoveri. Il numero delle persone in ospedale di 58 sono 5 quelli in terapia intensiva. Anche il Codacons rimarca gli elementi rischiosi del prestito all'azienda idrica Comuni Agrigentini da parte dei comuni. I sindaci che hanno fatto il piano di rientro, come ad esempio Agrigento e Favara, dice l'Associazione Consumatori, caricano nelle casse comunali delle città un prestito di un milione e mezzo di euro per Agrigento e 800 mila euro per Favara per sostenere AICA. Si sono prima sincerati, afferma il Codacons, che la consortile possa effettivamente ripagare il prestito così come previsto? Il presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, Nenè Mangiacavallo, continua la sua campagna per ottenere dal Governo il riconoscimento della città di Agrigento quale capitale italiana per la cultura per l'anno 2025. Per raggiungere questo obiettivo, ieri c'è stato un incontro che si è svolto alla Verdura Resort e che ha coinvolto anche lo stesso sindaco di Sciacca, Fabio Termine, che ha già detto di condividere la proposta per le indiscutibili refluenze che questo risultato potrebbe determinare anche nei confronti del territorio saccenza. domani ad Agrigento incontro con tutti i sindaci della provincia. Grazie al pronto intervento di un saccenza è stato messo in salvo e verrà sottoposto alle cure appropriate un esemplare di Falco Pellegrino rinvenuto nelle scorse ore in località Timpi Russi. Dino Ogello, capo di staccamento dei vigili del fuoco di Sciacca in pensione, ha soccorso il rapace ed ha chiamato il responsabile del WWF Area Mediterranea Giuseppe Mazzotta. Il volante l'è stato trasferito grazie all'interesse di quest'ultimo, a Centro Recupero fa una selvatica di Cattolica Reclea per le cure del caso. È tutto per il momento, grazie per averci seguito. Restate con noi. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.